Le fibrillazioni all'interno della maggioranza sembrano essere finite a Giulianova. Con la firma questa mattina delle deleghe si chiude il rimpasto all'interno della coalizione di centrosinistra che supporta il sindaco Francesco Mastromauro. Non abbiamo accettato imposizioni dall'alto, ha tuonato il sindaco, che ha ribadito di aver voluto una nuova squadra di governo a tre anni dall'inizio della legislatura per proseguire con maggior vigore il programma sottoscritto con gli elettori. Nuovo esecutivo quindi con l'ingresso dell'Udc e il gran rifiuto di Procresso Giuliese, con il quale Mastromauro non è riuscito a raggiungere l'accordo sul nome del nuovo assessore. A far posto ai nuovi assessori la lista civica che porta il nome del sindaco, i cui esponenti si sono dimessi per far posto ai nuovi ingressi, accettando senza pressioni, ha tenuto a ribadire il sindaco, le necessità di riassetto all'interno del Consiglio Comunale. A far parte della nuova giunta Gabriele Filipponi, vice sindaco, Roberto Mastrilli, assessore ai lavori pubblici, Fabio Ruffini al bilancio alle attività produttive, Archimede Forcellese, che ha mantenuto le deleghe al traffico e al turismo con l'aggiunta di quella al demanio, Nausicaa Cameli, una dei due nuovi ingressi che ottiene le deleghe all'istruzione e alle politiche sociali, Nadia Ranalli, che prende il posto di Crescentini alla Cultura, ed infine Alfonso Vella, ex assessore provinciale di Teramo, che seguirà l'urbanistica. Tutti pronti, insomma, per ripartire con convinzione per restituire nuovo smalto ai prossimi due anni di legislatura.